L'appuntamento è fissato per venerdì prossimo in autorità portuale. Lo si è stabilito martedì scorso durante il presidio svoltosi sotto Torrenord in occasione della giornata di sciopero dei lavoratori della Minosse, proclamato dalla CGL e dalla USB per protestare contro quanto previsto dal nuovo contratto siglato con Enel per le operazioni di scarico del carbone destinato alla centrale e che decorrerà dal prossimo 1 gennaio. In base a quell'accordo è previsto praticamente il dimezzamento dei lavoratori impegnati nelle diverse operazioni, ma le condizioni che hanno portato alla sottoscrizione di quell'intesa sono completamente mutate negli ultimi mesi. A fronte dell'impennata dei costi del petrolio e del gas, il Servizio Elettrico Nazionale ha chiesto una maggiore fornitura di energia alla centrale di Civitavecchia e le carboniere, anziché diminuire, sono aumentate. Allo scorso 31 ottobre, infatti, la movimentazione del carbone era stata di 1.380.000 tonnellate, molto di più rispetto a quanto era stato previsto. Addirittura, facendo una proiezione basata sui primi 10 mesi dell'anno, il 2021 si chiuderà con un tonnellaggio superiore rispetto al 2020. I numeri parlano della possibilità che al 31 dicembre saranno state movimentate oltre 1.600.000 tonnellate, mentre lo scorso anno ci si era fermati a quota 1.555.000. Niente a che vedere, dunque, spiega il presidente della Minossa, Maurizio Iacomelli, con il crollo della fornitura che era stato ipotizzato e portato alla stipula di quel contratto. L'intenzione della società è quella, nel corso dell'incontro, in programma venerdì prossimo, di chiedere nuovamente ad Enel una moratoria, alla luce del mutato quadro internazionale degli approvvigionamenti energetici, riportando le condizioni contrattuali a quelle attuali. La Minossa intende anche andare oltre. È evidente, riprende Iacomelli, che l'alimentazione a carbone di Torre Nord andrà comunque a finire. Nei prossimi anni sorgerà quindi in ogni caso il problema della ricollocazione del nostro personale. Riteniamo a riguardo che non ci sia migliore possibilità di quella offerta dallo sviluppo della logistica. Per questo chiederemo di valutare l'inserimento della nostra attività tra quelle che saranno sviluppate da Enel Logistics, che in altre realtà stanno iniziando a farsi concrete e che anche a Civitavecchia dovranno avere un ruolo importante in un discorso di riconversione delle attività legate alla presenza dell'azienda energetica.